L'estate sta entrando nel vivo, tutti pronti a lasciare città e uffici per andare al mare. Ma se tutti partono per le vacanze, chi dona? E' questo lo slogan scelto dall'Avis regionale Campania per la campagna di sensibilizzazione alla raccolta di sangue. Molti donatori abituali infatti partono per le vacanze e questo comporta un fisiologico calo nell'approvvigionamento di sangue che porta gli ospedali in uno stato emergenziale. Per questo l'Avis ha scelto di rafforzare la propria presenza sul territorio invitando i cittadini a donare prima di partire per le tanto agognate ferie. Fino alla prima metà di agosto i mezzi per la raccolta del plasma saranno quotidianamente a Via Roma e a Via Scarlatti a Napoli. Il sabato e la domenica l'Avis si trasferisce sul lungomare alla rotonda di Iaz. Nel resto della regione le emoteche saranno presenti alle manifestazioni più importanti come sagre, eventi, spettacolo per approfittare del maggiore afflusso di persone. Ai nostri microfoni Bruno Landi, presidente regionale dell'Avis. In questo periodo come in tutto il periodo dell'anno è importante donare. Possono donare tutti i giovani dai 18 ai 65 anni e nell'arco di un quarto d'ora, mezz'ora, si riesce a fare questo atto di generosità che risolve i problemi dei pazienti negli ospedali campani. Grazie.